. Denunciati due adolescenti per il rogo di San Calogero. . I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca, AG, hanno denunciato, su disposizione della procura presso il Tribunale per i minori di Palermo, i due presunti autori dellincendio che ieri ha coinvolto una parte delle contrade Isabella e San Calogero nel comune Agrigentino. . Si tratta di due ragazzini di 14 anni, che, scrivono i militari dell'arma, per una bravata avrebbero dato fuoco ad alcune sterpaglie, verosimilmente con un accendino. Il fuoco si è propagato immediatamente, trovando terreno secco e ben alimentato dal vento, e in pochi attimi è diventato indomabile. I due ragazzini, impauriti, sarebbero corsi via senza avvisare nessuno della bravata e delle evidenti conseguenze. I due minori sono stati interrogati a lungo in caserma, insieme ai genitori, per accertare la dinamica del rogo, che ha impegnato anche un elicottero e ha bruciato circa due ettari di pini e palme nane, lambendo anche la parte abitata delle due contrade. Italpress. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps. .